176 loculi e circa 60 ossarietti di varie dimensioni. Si articolerà così il nuovo padiglione del cimitero di Rosciano Bellocchi che è stato inaugurato stamattina alla presenza del sindaco Seri e dell'assessore allevori pubblici Fanesi. La mattinata è iniziata con il tradizionale taglio del nastro e la benedizione da parte del parroco Don Giuliano Marinelli. Grazie al nuovo ampliamento potranno rientrare nel cimitero le salme che nel frattempo per mancanza di spazio erano state collocate in altri cimiteri cittadini. Nel mese di maggio l'ufficio Servizi Cimiteriali contatterà tutte le persone che hanno richiesto che comunque vorranno trasportare le salme momentaneamente in altri cimiteri in questo e quindi sarà un mese abbastanza intenso per questo tipo di attività. Interventi necessari dunque dovuti anche all'aumento negli ultimi anni della popolazione della prima periferia della città e che permetteranno ai residenti di avere più vicini i propri cari defunti. Nella giunta di ieri abbiamo anche stanziato nuove risorse per il cimitero di Camminate sulla quale abbiamo preso un impegno per il suo ampliamento. Quindi è un programma che guarda ad un bisogno importante per una comunità come la nostra ma soprattutto lo facciamo anche tenendo conto di non dover sempre rincorrere l'emergenza ma quella di dare una risposta nell'immediato ma che abbia anche la capacità di guardare al futuro e ad una funzionalità dei cimiteri del nostro territorio in base a quelle che sono le esigenze.